Hai una cosa da domandare, un dubbio da chiarire, con Roby lascia stare, se vuoi un'informazione, ma se la cosa è seria, con Roby lascia stare, potresti farti male. Lui è il cazzaronero, non dice mai il vero, è proprio tutto matto, mi fa venire un impatto, perché dice così, la luna sparirà, il mare asciugherà, il fiume indietro andrà, il monte crollerà, il pesce volerà, la terra si fermerà, poi tutto finirà, e l'intervincerà. Lui è il cazzaronero, non dice mai il vero, è proprio tutto matto, mi fa venire un impatto, perché dice così, ma se non è il tuo cazzaronero, non me ne importa niente, se con le mie cazzate faccio arrabbiare la gente, mi va di fare il cazzaronero, ma zio me ne vado, poi dico anche il vero, magari ogni da lui è il cazzaronero, non dice mai il vero, è proprio tutto matto, mi fa venire un impatto, perché dice così, hai perso il tuo lavoro, la casa è andata al fuoco, ci è morto anche un poco, l'Italia va in deput, c'è in atto una malaria, una cosa molto sé, di tutti si morirà, e l'intervincerà, lui è il cazzaronero, non dice mai il vero, non dice mai il vero, ma come si può far, lui è il cazzaronero, non dice mai il vero, non dice mai il vero, ma come si può far, lui è il cazzaronero,